Bene amici, eccolo qua il Mi 8 SE, dove SE non sta per second edition, ma sta per versione più compatta, più bella secondo me, si tiene meglio in mano, design squadratino, cosa non mi piace assolutamente, la gestione della tacca, ma questo ve lo faccio vedere dopo, invece cosa mi ha convinto? Questo nuovo Snapdragon che va veramente bene, andiamo a scoprirlo insieme. Inutile partire dalla scatola, abbiamo già visto l'unboxing, vi ho detto che sta molto meglio in mano, 7,5 mm, 160 grammi di peso, 164 per l'esattezza, ma poi sta meglio in mano di cosa? Ma ovviamente del suo fratello maggiore Mi 8, doppio tap si accende, volendo doppio tap si spegne, no perché si può spegnere però mettendo un widget qua, spegnimento stock della MIUI, non c'è stock di Android, peccato questo widget che si può mettere dove si vuole per spegnere il testo. Telefono, riconoscimento facciale avete visto abbastanza veloce, materiali, vetro davanti, vetro dietro ma non c'è la ricarica wireless, sensore di impronta digitale si sblocca bene 10 su 10 ma non è fulmineo, abbiamo il tasto accensione che zigrinato mi piace, sono rimasti gli infrarossi, cioè la possibilità di comandare via infrarossi qualsiasi cosa, condizionatori, set of box, tv eccetera eccetera, qua c'è il forino per il secondo microfono, qua sotto c'è microfono e altoparlante che è mono e poi la presa tipo c. Doppia camera da 12 megapixel più 5, anteriore è da 20, vedete always on display, always on display che può essere acceso o disattivato anche a orari predefiniti ma purtroppo non fa vedere tutte le notifiche, non si può interagire con le notifiche. Faccio un esempio, Whatsapp sì, Gmail sì, Telegram no. Ha il wifi dual band, 4G+, GPS ok, NFC no, non c'è ma c'è l'OTG. Questo è il menu, vi faccio subito vedere il... no ma facciamo una bella cosa, andiamo a parlare prima di batteria che ovviamente è integrata, 3.120 mAh, molto molto bene, uno degli aspetti che mi è piaciuto e mi ha fatto capire che questo processore lavora bene. Questo è l'andamento nella mia giornata super stress a Monaco, quindi con un volo di mezzo, ma non tanto il volo quanto l'uso sempre in 4G, 4 ore e 8 minuti di display, un consumo abbastanza costante, tra l'altro ho usato Spotify un casino, 3-4 ore di Spotify, infatti ha consumato molto, questa è la durata della batteria, 7% erano le 23-14, oggi ho avuto una giornata un pochino più diciamo standard e guardate 21,58, tra l'altro cancello un po' di notifiche, siamo al 41% di batteria, facendo una media tra tutte le giornate, arrivo a sera, giornata stress mia standardizzata a 20-25%. Vi ho cancellato le notifiche, potevo anche non farlo per farvi vedere, scusate ho la tosse, come le notifiche praticamente non si vedano mai, se non tirando giù la tendina, infatti come miotto, qua in alto a sinistra, compare l'orologio, mettendo il widget dell'orario in una schermata qualsiasi, ve lo faccio vedere in diretta, tengo premuto qua, vado su widget, widget dell'orologio, possiamo mettere uno qualsiasi di questi qua di Xiaomi, scomparla l'orologio ma non fa posto alle notifiche, quindi la tacca rimane così. Altra cosa che non mi è piaciuta della gestione della tacca, guardate questa è la tacca fisica che arriva lì e contiene ovviamente sensore di luminosità, a prossimità la camera anteriore, la capsula auricolare, ma se andiamo in full screen display, che ci consente anche di attivare le gesture comodissime quando iniziate a usarle poi non ne riuscite più a fare a meno, ma guardate, vedete, tra tacca fisica e barra nera c'è uno spazio, cioè la barra è oltre la tacca e va a essere asimmetrica, vedete, sopra e sotto. Tra l'altro qua c'è la stondatura del display, ma adesso vi farò vedere che alcune applicazioni, quelle che vanno a tutto schermo e creano una barra, invece sono squadrate là in alto, non benissimo. Invece molto bene il display, 5,88 pollici AMOLED, full HD+, 423 ppi, faccio vedere la cartella di test, ha raggiunto dei livelli di luminosità veramente altissimi, quasi 900 lux di picco, diciamo quando il display è tutto bianco, quindi chiede tanta energia, comunque sale oltre gli 800, i neri sono assoluti e qua vedete il livello del bianco, che buono. Va un pochino a diventare arcobalenoso, scusate questa parola, alle inclinazioni difficili, ma voglio dire non è un grosso problema, vedete, proprio qua quasi a 180 gradi. L'attacca non va a influire sulle fotografie, ma quello che vi dicevo prima, guardate qua per esempio a tutto schermo, sotto ci sono i bordi stondati, sopra invece i bordi sono squadrati, insomma un po' poca cura. Sarà che c'è ancora la MIUI 9.5, basata comunque su Android 8.1, arriverà sicuramente la MIUI 10, ma non so se arriverà alla Global, perché questo telefono non è detto, anzi è difficile se arriva, non arriverà subito in Italia. Qua vedete le configurazioni RAM 6GB, abbiamo la CPU, la nuova Snapdragon 710, che fa girare molto bene questo telefono, non scalda mai per quello che è la durata della batteria buona, nonostante non sia grandissima, 3.120 mAh, ma comunque lo fa girare bene. Qua ci sono tutte le specifiche, patch non aggiornatissime, sono di maggio, 64GB di memoria, attenzione, non espandibile. Andiamo a vedere come gira il telefono, questo è Instagram, maledetto Luca, che è a forma intera, io invece sono qua a provare telefoni e anche macchine, oggi sono un po' triste, è l'ultimo giorno della Golf Elettrica, la devo restituire, ma comunque velocità, fluidità, direi buona, forse non fulmino ad aprire le applicazioni, ma neanche lento, non è un telefono che definirei lento nell'aprire le applicazioni, proviamo a vedere il gestore delle pagine, che è sempre quello un po' più ostico, sia ad aprirsi, sia a caricarsi, in realtà si è caricato abbastanza velocemente, vedete, scrollo altrettanto velocemente. Lingua inglese, perché non ho voluto installare MoreLocal, non ho voluto sbloccare il bootloader, non ho voluto installare la Xiaomi.eu, che ha cucinato una ROM non ufficiale, ovviamente, con italiano, basata su MIUI 10 Beta. Attenzione, non è cambiato niente a livello di notifiche, neanche con la 10. Niente, ho deciso di fare la recente con questa versione stabile, visto che comunque va tutto, una volta installato Play Store e servizi di Google. Parte telefonica, chiamiamo il classico 190, purtroppo manca la banda 20, si può però registrare la telefonata, forse per quello che non arriverà subito in Italia, alzo il volume. Allora, lo speaker è potente, è potente, lo sentirete poi anche nella musica, capsula auricolare idem, si sente bene, ricezione ok, audio nella media, forse un pochino freddo, un pochino alte le tonalità all'orecchio, ma assolutamente niente di problematico, vibrazione ok, nella media non è troppo maschera, è troppo zanzarosa, parliamo di parte multimediale. Allora, fotocamera, interfaccia solita degli ultimi Xiaomi, con la possibilità di attivare l'intelligenza artificiale, che, beh, non lo so, a me continuano a convincere. Queste sono tutte le possibilità, i settaggi, anche qua soliti settaggi della MIUI, per quanto riguarda la fotocamera, video che si possono girare massimo in 4K, purtroppo, purtroppo manca il 1080 a 60fps, velocità massima raggiungibile 240fps, però 720p a 1080, 120, ovviamente parlo di video, quelli che si possono poi andare a fare in slow motion, però c'è la possibilità di encodare il video sia in H264 sia in H265, che comprime un pochino di più, vedete qua non c'è il 60fps. Una cosa che mi ero ripromesso di far vedere, e mi sono dimenticato di far vedere, è che nel display, nella possibilità di regolare la luce, tra l'altro si regola bene grazie al senso di luminosità ben tarato, possiamo anche decidere la luce notturna e il colore della luce notturna, quindi, diciamo, la tendenza al giallino, il filtro luce blu, se vogliamo chiamarlo in un altro modo. Parliamo di scatti, visto che vi ho fatto vedere la fotocamera, non ho fatto il test con Buzz, non perché mi si è dimenticato di Buzz, e qua l'ho visto con la coda e l'occhio, giustamente meglio farlo, per vedere la velocità di messa a fuoco, non vi sto a specificare che c'è la possibilità del portrait, quindi della fotografia con l'effetto bokeh, ormai tutte le camere ce l'hanno, square, panorama e manuale, ma ripeto, l'interfaccia da fotocamera è quella classica, stock di tutti gli Xiaomi. non mi aveva fatto impazzire nelle prime impressioni, quando avevo fatto l'unboxing, invece poi ho fatto foto, 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 tante, tante foto, e devo dire che non si è comportato invece male, anche con poca luce. Qua nel contesto di una fiera proprio a Monaco, fiera automatica 2018, molto fiera B2B, cioè business to business, c'erano dei robot per costruire altre cose, ma ho provato un esoscheletro molto figo, questa è la foto mentre facevo il video, eccolo qua, questo è il video che ho fatto, ve lo faccio vedere al volissimo, giusto per farvi rendere conto di come gira il video, anche qua non male, veloce la messa a fuoco, anche la luce, la gestione, ripeto, non male, l'audio un pochino, forse come al solito sugli Xiaomi, un po' così, e questa è una foto fatta invece con la camera anteriore, forse le fa un po' troppo chiare le foto, però devo dire non male, anche qua, lei è Gaia, ragazzi, guardate che ragazza giovane, è una del team tutto giovanissimo, che ha proprio studiato e ingegnerizzato questo esoscheletro, che poi verrà prodotto da Comau e verrà commercializzato, è uno dei primi grandi gruppi che commercializza un esoscheletro, metterò il video prestissimo, e poi volo di ritorno, avevo un follower seduto di fianco, ci siamo fatti una foto, questa è con la camera posteriore con l'effetto bocchino, l'ho fatta a selfie, e poi con poca luce, devo dire non male, e poi qua la foto che ho fatto alla Golf, giusto per salutarla, con un pochino di cavi di ricarica, stavo girando il video finale, insomma, camera, devo dire non male, non a livello di Mi 8, diciamo, a livello medio-alto di gamma, vi faccio sentire la parte musicale, e ovviamente si può stare alle play music, io ve la faccio sentire invece con l'applicazione stock della ROM cinese, sì, un po' di cineserie qua in alto da una parte o dall'altra ci sono, ma vabbè, niente che vada a disturbare, tolgo il non disturbare, alzo il volume della musica, magari meglio tornare indietro, no, troppo indietro, Allora, si sente molto bene, molto bene dalla cassa, mancano un film di bassi, ma il volume è molto alto, ho ascoltato un sacco di Spotify, ma purtroppo via Bluetooth, perché come potete notare, non c'è il jack delle cuffie, mannaggia a Xiaomi, però il DAC con, diciamo, l'adattatore che c'è in confezione, funziona bene, direi di trarre delle conclusioni, non vi ho parlato di, scusate, maledetta tosse, Real Racing, che si attiva in circa 12-13 secondi, poi veramente molto molto fluido, questo appunto a supportare, attesi che il processore è un ottimo processore, grosso shop, 329 euro, secondo me arriverà presto a 299, molto bello il form factor, la forma, le finiture, l'attacca gestita malissimo, la beta di 10 non cambia, purtroppo niente, allora vi faccio un esempio, se arriva, voi ce l'avete spento così, ok, anche con la Lue Son Display, arriva una notifica, magari Telegram, che non va nemmeno nella Lue Son Display, non la sentite, perché magari ce l'avete silenzioso, non disturbare, o comunque, non la sentite, perché magari è a un volume basso, c'è rumore attorno a voi, basta, non capite più se è arrivata, non vedete che avete delle notifiche, accendete, ti rimane tutto così, che bisogna solamente tirare giù la tendina, per ogni tanto, per verificare se abbiamo delle notifiche, insomma, direi, direi non benissimo, speriamo che con la 10, non beta di Xiaomi.1, ma definitiva, si stemino, certo è che buttare fuori, sul mercato, un telefono così, ha poco senso, e da noi, vi ho detto prima, poco probabile che arrivi, e come aspetto, vi ho detto, lo preferisco al mio 8, che però, terrò, per seguirne l'evoluzione, fino alla global, europea, che si arriverà, e questo lo vedrete presto, sul mercatino, del blog, indirizzo, mercatino.tech, un saluto da Andrea Galeazzi, .com, troppi punti, e troppa tosse, troppi sbalzi, caldo freddo, Parigi, New York, Berlino, ciao!